Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, la crisi della società termale di Caramanico al centro di un suo intervento. Sì, oggi qui sono venuti anche in Consiglio regionale oltre 25 cittadini tra dipendenti ed esercenti economici di Caramanico. Purtroppo il Caramanico sta vivendo una situazione tragica, la crisi aziendale delle terme che non ha aperto, possiamo dire, quest'anno, sta mettendo sull'astrico tutto l'indotto perché ci sono tante prenotazioni turistiche, hanno prenotato alberghi, ristoranti, strutture ricettive che non sanno che cosa devono fare perché se le terme non funzionano appunto loro non andranno più e quindi stanno cancellando le prenotazioni. I dipendenti sono oltre 200 dipendenti appesi ad un filo perché non hanno nessuna speranza e rassicurazione che rinizieranno a lavorare. Io ho portato il caso in Consiglio regionale con interrogazione regionale, c'è stata una risposta molto evasiva da parte del governo regionale, degli assessori competenti, non c'è più tempo da perdere, la regione si deve far carico di questa vertenza regionale e risolvere immediatamente il problema per ridare quel che merita quel territorio perché le terme di Caramanico hanno sempre attarato con grande mobilità attiva, venivano da tutte le regioni d'Italia, non solo ma anche da altre regioni e da altri paesi europei. E poi oggi stiamo occupando anche del Ciappi perché sappiamo che i dipendenti del Ciappi da tre anni non percepiscono un euro di stipendio, noi eravamo riusciti a far stanziare 600 mila euro per pagare gli stipendi, purtroppo oggi è stato un emendamento che abrogava questo stanziamento, fortunatamente grazie alla nostra opposizione è stato cancellato un emendamento della Lega, quindi io chiedo all'amministrazione regionale di non fare più questi sbagli perché pesano sulle tasche dei cittadini, qui non si può improvvisare, questa è un'amministrazione regionale che sta improvvisando, non sanno quello che devono fare e questa è una cosa gravissima perché l'Abruzzo merita di più.